che cosa stai facendo? prova a indovinare stai fattinando? sto volando da un fiore a un altro il tuo modo di volare è buffo non hai ancora visto niente avanti, indietro a testa in giù e so anche stare fermo in volo sei un elicottero? io non ho un'elica ho le ali e dove sono? le sbatto così velocemente che non riesci a vederle wow non ho mai visto un uccello così piccolo sono l'uccello più piccolo del mondo davvero? sì e sono anche il più affamato guarda come succhio il mettere ti fa male la pancia? no ho il signozzo aspetta 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 sei minuscolo con le ciampi la coda le ali il becco lungo e sai stare fermo in volo lo so chi sei tu sei il colibrì esatto ma com'è il fatto? ahahahahaha